Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faccio il video make-up a catena, il secondo per l'esattezza. Sono stata taggata anche da Alessandra Gufettina Chic, un bacione bella. Lei mi ha segnato il colore verde, quindi faccio anche questo, molto volentieri. Ho già fatto la base, ve li faccio vedere al volo. Allora, come prima cosa ho utilizzato questa base ematificante di MAC, il Dior Star. Come correttore ho utilizzato questo di MAC, questo qua. Poi ho utilizzato per la prima volta questa palettina di Too Faced, questa qua. Ve ne voglio parlare poi magari più avanti. L'ho utilizzata per la prima volta, quindi non so ancora dirvi esattamente cosa ne penso. E soprattutto non sono bravissima nel fare il contouring, perché mi sono cimentata da pochissimo. Quindi per ora non mi esprimo. Ho messo anche il blush, quindi ho completato praticamente la base. E questo è di Mula, che è Ariel. Ho fissato con la cipria di MAC. La solita. E quindi passo subito al trucco occhi. Le sopracciglia sempre fatte con il kit di Kiko. E il primer è sempre questo, il solito. Utilizzerò principalmente, anzi solo, ombreti Nabla, perché ho trovato delle cialdine sulle tonalità del verde che mi piacciono tantissimo. Allora, quindi parto subito con questo ombretto. Questo verde qua si chiama Atmosphere. Con un pennellino piatto. Prelevo e vado l'eccesso. No, prima di tutto. Importantissimo. Legarsi i capelli, perché è una cosa che odio quando mi trucco e mi cadono in faccia. Questo è un verde bellissimo. Vado su tutta la palpedra. Così. Come punto luce utilizzo Zoe. Questo verde molto illuminante. Molto chiaro. Un pennellino piccolo piccolo. Così. Poi vado a prendere questo colore bellissimo. Allora, lui si chiama Babylon. Questo verde petrolio. Con un pennellino angolato così. Vado all'esterno. Traccio la mia V. Inizio a dare una forma al mio trucco. Su un pennellino da sfumatura sfumo. Vado a prendere poi il colore che utilizzo sempre per la piega, che si chiama Narciso. Un pennellino da sfumatura sfumo. Ecco qua. Vado ad applicare la matita nera. Questa qua. Questa qua. L'applico a modi eyeliner. facciamo un attimino la punta. Facciamo un attimino la punta. e sotto invece ho riapplicato Babylon. Sfumato così. Vado ad applicare il mascara. Questo è di Lancome. e sotto. Sfumato. 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 Gli occhi sono finiti. Il mio dilemma è sempre che il rosetto mettere. Sfumato. Ho fatto un po' di pasticci qua. Alla fine ho optato per questa matita che è de L'Oreal. Per fare il contorno che appunto mi manca devo per forza farlo. E come rossetto vado a utilizzare questo che è full fucsia di MAC. Vediamo che cosa ne viene fuori. Ecco qua. Questo è il risultato finale. Con il rossetto. Fatemi sapere se vi piace. Io sono abbastanza soddisfatta. Quindi di nuovo grazie Alessandra per avermi taggata. Gufettina Chic. Vi lascio il link giù del suo canale per chi ancora non la conoscesse. Ma ne dubito. Un bacione a te e un bacione a tutti voi. Vi aspetto al prossimo. Ciao.